Correre è la libertà, essere contatto con me stesso, solo con me e basta. Corso di Miguel fa parte del mio passato, del mio presente e penso del mio futuro. È un modo di pensare agli altri, è un modo di ricordare da dove vengo, da dove sono cresciuto, dove sono nato e quello che è accaduto nel mio paese negli anni 70.